Artecarta Italia ha come obiettivo la perfezione dei prodotti realizzati. Da sempre l'azienda si impegna nell'identificare al meglio le esigenze dei clienti e fornendo soluzioni tecniche e di design che aumentano il valore qualitativo degli articoli proposti. Funzionalità e praticità uniti al massimo gusto estetico. Tra i contenitori si trovano scatole per torte, dolci, gelato, praline e paste, linee dedicate alle confezioni particolari e alle festività, linee prestige per i panettoni e le colombe e i bauletti gastronomici. La continua crescita, lo sviluppo e la formazione del personale, attento a ogni dettaglio, hanno contribuito a rendere Artecarta Italia una delle aziende leader a livello nazionale per il settore cartotecnico. Tutte le scatole prodotte sono sia innovative, realizzate con tecnologie all'avanguardia, che classiche al tempo stesso, nelle forme e negli utilizzi. Diversi colori e le misure, adatte a ogni tipologia di trasporto, di torte standard oppure più alte. Si possono personalizzare su tutti i quattro lati con il marchio del cliente, anche per piccole quantità richieste. Resistono a tutti i generi di trasporto, pur restando eleganti e raffinate nell'aspetto. La produzione di Artecarta Italia utilizza tecniche davvero incisive per dare unicità a ogni prodotto. L'utilizzo dell'UV permette di rendere lucidi i dettagli su fondo opaco. La stampa in rilievo garantisce tridimensionalità al particolare scelto. La stampa a caldo attribuisce massima eleganza a ogni scatola. Nata nel 2000, Artecarta Italia ha fatto della perfezione per le scatole da dolci e per gli alimenti in generale la sua mission, introducendo tecniche davvero avanzate e diventando in questo modo un esempio per l'industria del packaging alimentare. Grazie. 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 Grazie.